Gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 43 anni per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di mirati servizi antidroga, gli operatori della squadra volante hanno notato in via Frassino due individui nell'atto di scambiarsi qualcosa. Le due persone, alla vista della polizia, sono fuggite immediatamente, costringendo gli agenti a un inseguimento a piedi, a conclusione del quale uno di essi è stato raggiunto e bloccato. Proprio nel momento in cui veniva fermato, l'uomo ha provato a disfarsi di un involucro in cellofan lanciandolo per strada, ma l'oggetto è stato recuperato dagli agenti, i quali hanno accertato che conteneva eroina, droga che la persona fermata ha dichiarato di aver acquistato poco prima per uso personale. Per tale ragione, l'uomo verrà segnalato alla prefettura di Catania che provvederà a irrogare le sanzioni amministrative previste. Terminata l'attività descritta, gli uomini della volante hanno avviato le ricerche per individuare l'uomo che aveva ceduto l'eroina, riuscendo ad accertarne l'identità e raggiungendolo presso la sua abitazione, dove è stata effettuata un'accurata perquisizione alla ricerca di altro stupefacente. L'operazione di polizia giudiziaria ha condotto a un risultato positivo, in quanto gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e altra eroina. Sono state anche trovate banconote, provento dell'attività di spaccio e ritagli di cellofan per confezionare le dosi da spacciare. Avuta dunque la certezza del commercio illegale, i poliziotti hanno arrestato il titolare dell'abitazione, peraltro già noto per i suoi precedenti specifici. Dopo le rituali e operazioni di fotosegnalamento, l'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo.